allora ragazzi buonasera niente non so se qualcuno di voi se n'è accorto non lo so come ben sapete è da ieri che non ho fatto live oggi stessa cosa nel video nel live perché ho un problema enorme purtroppo per chi se ne è accorto non lo so mi sono entrati sul canale non so come abbiano fatto hanno saltato la verifica due fattori sia delle mail sia del telefono ho provato a bloccare questa cosa sono comunque riusciti ad entrare degli hacker mi stanno attualmente cancellando tutti i video quindi hanno cambiato già l'immagine di sfondo con scritto exchange the world binance ve lo faccio vedere questo è il mio canale exchange the world binance io non ho più l'accesso al mio canale vedi accedi non posso più accedere a niente